La torta di mele e cannella è, senza dubbio, uno dei dolci più famosi a livello mondiale, nonostante le diverse varianti, proprie di ogni paese. In Italia, rappresenta la classica torta della Domenica, il cui profumo ricorda l'infanzia, la degna conclusione dei pranzi familiari e le merende sane e genuine a casa della nonna. La nascita della torta di mele vanta, senza dubbio, origini molto antiche, sebbene vi siano, come spesso accade, numerose teorie per quanto concerne la paternità di tale dolce. Si tratta, secondo alcune fonti, di un'invenzione occidentale, in particolare della Francia, ove nel XIV secolo, all'interno dei monasteri. Era frequente realizzare alcune preparazioni culinarie a base di mela, antesignane della classica torta, la tarte au pomme differiva dalla versione attuale per la presenza del miele, in sostituzione dello zucchero, e delle cipolle, all'epoca usate all'interno dei dolci. Oggi, invece, la versione francese è la tartatin, ossia una torta capovolta, in cui le mele vengono precedentemente caramellate. Una tesi contrapposta sostiene, invece, che la patria della torta di mele sia il Regno Unito, seguito immediatamente dagli Stati Uniti, in cui l'American Apple Pie, in breve, diviene una vera e propria tradizione gastronomica del paese. Ciò detto, a prescindere dalla disputa in merito alle origini, è possibile affermare, con ampia probabilità, che lo scopo iniziale, fosse quello di conservare la frutta, poiché cuocendola poteva essere gustata per alcuni giorni, oltre ad assumere un sapore differente. Ricetta della nonna Come anticipato, nel nostro paese, la torta di mele è il dolce fatto in casa per eccellenza. La ricetta per realizzare, quindi, una perfetta torta di mele e cannella della nonna, prevede, per otto porzioni, i seguenti ingredienti. 2.400 g di farina 00, 3 uova a temperatura ambiente, 200 g di zucchero, 120 g di burro, 2 mele, ad esempio golden, o renette, una bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di cannella, scorza e succo di un limone, latte e zucchero a velo Q, B. Preliminarmente, occorre sbucciare le mele, tagliarle a metà e porle in una scodella con acqua e succo di limone. Dopodiché, è possibile iniziare lavorando le uova con lo zucchero mediante le fruste elettriche, e, non appena il composto sarà soffice, va unito il burro, precedentemente fuso in un pentolino, nonché la scorza di limone grattugiata, mescolando con cura. Il passaggio successivo interessa le polveri, quindi farina, cannella e lievito che vanno setacciati e amalgamati, prima di unirli. Alla suddetta crema, in cui occorre versare il latte a filo, continuando a lavorare con le fruste, fino ad ottenere un impasto morbido. È il momento di prendere una delle mele lasciate in acqua, asciugarla, tagliarla a cubetti, e aggiungerla al resto, per poi versare il tutto nello stampo, da 24 o 26 centimetri, imburrato e infarinato. L'altra mela, invece, va tagliata a fettine e disposta sulla superficie della torta, dai bordi verso il centro. A questo punto, è pronta per essere infornata, a 180 gradi per circa 45 minuti, momento in cui è necessario, comunque fare la prova stecchino. Se asciutto, il dolce è cotto, è, inoltre, importante, non aprire il forno per la prima mezz'ora, ossia durante la lievitazione, e tenere la torta nel ripiano basso, al fine di evitare che tragga in inganno, cuocendosi troppo in superficie e rimanendo cruda al centro. Al termine della cottura, basta una spolverata di zucchero a velo e la torta di mele e cannella. È pronta per essere servita, per mantenerla morbida, è consigliabile conservarla nella classica campana per torte o, comunque, chiusa ermeticamente, fino a quattro giorni. Rivisitazioni. Nel corso degli anni, oltre alle citate versioni, proprie degli altri paesi, si sono diffuse delle rivisitazioni della torta di mele, classica all'italiana, per soddisfare diverse esigenze, oltre alle differenti modalità di preparazione che consentono a chiunque di cimentarsi in cucina, anche avendo poca esperienza e non abbastanza tempo a disposizione, ad esempio utilizzando il robo da cucina, come il famoso bimbi, che ovviamente contiene la torta di mele nell'apposito ricettario. Le varianti del dolce in questione si basano sull'aggiunta, l'eliminazione o la sostituzione di alcuni ingredienti. In primo luogo, esistono numerose versioni light della torta di mele e cannella, che consentono comunque di ottenere una torta soffice e gustosa. Una ricetta da provare assolutamente è quella della torta di mele e cannella senza burro, in cui, inoltre, lo zucchero classico si sostituisce con lo zucchero di canna, anche per la guarnizione, al posto del cannoneco zucchero a velo, e si utilizza il latte scremato. Per un risultato sano, leggero ma, comunque, da leccarsi i baffi, altra variante ottima, anche senza burro, è la torta di mele e yogurt e cannella, poiché lo yogurt, in sostituzione, a punto del burro la rende ancora più cremosa. Infine, altra ricetta consigliata è quella della torta di mele con noci e cannella, in cui l'aggiunta delle noci sminuzzate all'impasto, conferisce una nota croccante e il sapore particolare si sposa alla perfezione con la dolcezza della mela.